Eccoci, tornate alla nostra rassegna stampa, ripartiamo subito per parlarvi di sport in diretta e lo facciamo dalle pagine del Corriere dell'Umbria con lo speciale Ternana. Fere, ora o mai più, un titolo che si riferisce allo spareggio salvezza che la squadra dovrà affrontare contro la Provercelli. Percelli, Fere e Gautieri sfida da all-in, il tecnico Sprona-Falletti per me è un esterno ma deve fare la differenza, altrimenti è tutto fumo. Lo scontro ha liberati, sto cambiando la mentalità della squadra, bisogna ripartire, dice il tecnico, dalla prestazione di Verona. C'è il dilemma del 4-3-3, Gautieri ha sempre adottato il suo modulo preferito, ma alle Fere adesso serve maggior concretezza. Per il tecnico, due gare interne di fila contro Provercelli e Trapani, la squadra ha bisogno, come l'aria scrive il Corriere di Punti per credere nella salvezza. Da Terni a Perugia, Grifo, Bucchi, sfida, l'emergenza, tranquilli, faremo una grande partita. Per l'attacco di Carmine non è al top, al suo posto è pronto, forte. Passione e tradizione, rosso-blu, San Martino fa festa con il Gubbio, il club in contrasquadra e staff tecnico in una serata all'insegna dell'amicizia e del buon umore. Giovani e più anziani, oltre 100 persone unite dalla comune, fede per i colori e o gubbini, applauditissimo Renato Fumari è il più vecchio del Sodalizio. Intanto verso Macerata rimane il Rebus, modulo, difesa 3 a 4, dubbio Marghi-Calombo. Non si può più sbagliare, allora di Montone-Lerchi al Reale si gioca l'anticipo tra i padroni di casa e l'undici di Cris Poltoni in campo col Tridente. E a Foligno, giovani e sport, convegno con Cherubini, vis sia il progetto ma niente fusioni. L'ex DS in città mentre Pinna chiarisce la posizione della sua società, Arezzo Nuccilli va avanti. E ancora la Ceprini in lude in avvio, Bologna rimonta e vince, questo per il basket a 2 femminile, protagonista l'ex Tava che ha realizzato 22 punti e finisce 44 a 60. Per i motori Speed Motor, festa grande con patron Tiziano e Nicoletta. E chiudiamo con la Sir Conad, ora si comincia a fare sul serio per i quarti di finale Scudetto, gara 1, spalti Total White, tutti in maschera, Block Devils Champions League, possibile scontro italiano a Roma. Intanto è ufficiale, c'è il super sponsor della Final Four. Questa sera al Palevangelisti Piacenza va subito vendicato all'eliminazione della Coppa Italia, Berger firma per due anni. Questo era lo sport del Corriere dell'Umbria, siamo alle pagine sportive della Nazione, carica Bucchi, faremo una grande partita, il tecnico sfida, l'avellino e l'emergenza, vinceremo pure per i nostri tifosi che non ci saranno. E a Perugia, a Grifo, la difesa da tre è più di un'idea, torna Niaore. La Ternana si gioca tutto in campo, va chi è al top, Gautieri sprona i suoi per la sfida con la Provercelli e il Gubbio in trasferta contro la Maceratese. Magi ha lavoro sulla compagine. In chiusura, Sir Safety pronta ad ospitare Piacenza, prendono in via i play-off scudetto, dal campionato greco arriva il regista Matteo Paris. Per il volley, serie B maschile, Foligno Eterni in casa, ancora serie B1, B2 femminile, il Bastia va a Ravenna. Siamo al messaggero e alle pagine sportive, per il Grifo, fantasia e creatività, Bucchi, la difficoltà può diventare opportunità, difesa inventata, ma non facciamo catenaccio. E per la Sir, con Piacenza, primo assalto al tricolore, infortunio per Mitic, la società chiama Paris in Champions League, potrebbe esserci una semifinale italiana. A Foligno riecco i giovanissimi del città di Foligno e, come sempre, per lo sporto chiudiamo con Terni, per vincere Falletti Avenatti contro la Provercelli. Gautieri punta tutto sulla coppia Uruguagia, intanto i piemontesi di Mister Longo non sono imbattibili, difesa 3 vulnerabile e occhio alle ripartenze. Era questa l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi, vi ringraziamo, come sempre, per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. Grazie.